Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi mostrerò che cosa sono gli Amiibo e che funzionalità hanno. Allora, gli Amiibo sono dei personaggi roppi, pazzini o peluche che si usano per sbloccare nuove modalità nei giochi. Allora, vi faccio vedere il mio Amiibo. Il mio Amiibo è un Amiibo di Yoshi di lana, che rappresenta il Yoshi Wally World, io ho pure il gioco Yoshi Wally World, ora ve lo faccio vedere. Ecco, questo qui è il gioco di Yoshi Wally World per Wii U, io sono già arrivato al secondo mondo, questo gioco è molto bello, i livelli sono molto lunghi, e si raccoglie un sacco di roba. Allora, continuiamo a parlare di Amiibo, gli Amiibo sono qui l'Amiibo di Yoshi, che è il sblocco di lana, e per selezionare il gioco si deve semplicemente appoggiare qui, e apparirà una scritta che vi dirà cosa fare. E poi l'Amiibo si trovano in un sacco di giochi per Wii U, si trovano su Mario Kart 8, su Super Smash Bros., su Capitan Todd e Treasure Tracker, su Splatoon, che è un gioco di sparare, poi su Yoshi Wally World, che è l'ultimo gioco uscito, e poi non me ne vengono più. Poi se ne sapete qualcuno vuoi, ditemelo, scrivetemelo. Allora, vi rappresento il mio Yoshi, il mio Yoshi di lana è Yoshi, che è il suo confondibile muso verde, la sua cresta arancione, e i suoi guance, che sono entrambe bianche, e poi la sua pancina, che è pure bianca, le sue scarpine, che sono arancioni e di sotto gialle, e poi qua sotto c'è il macchio, leggete, Amiibo e Nintendo. Forse è Nintendo non si legge, forse Amiibo si. E poi, di sotto è il bianco, e c'è il guscio rosso. Come sapete Yoshi si ha metà drago, perché in questi giochi prende il fuoco e lo sputa, e metà rana. Allora, ecco, questo qui è il mio Amiibo del gioco Yoshi Wally World. Spero che voi acquistate questo gioco, perché per me è molto figo. Ci vediamo al prossimo video, che credo che sarà un altro video di Mario Kart 8, forse sfrenate. Ci sarà Super Yoshi e Super Simo 125, vi aspetto, spero che guardate il prossimo video. E niente, mettere un mi piace e commentate se volete. Vino alla prossima puntata, al prossimo video. Ciao, ciao, pure da Yoshi.